Elite, private market del gruppo Borsa Italiana, parte di Euronext, torna in Umbria grazie a due aziende del territorio, Connesi e Santucci & Partners, che avendo già avviato con questo importante network un percorso per accelerare la propria crescita, si sono rese disponibili per condividere la grande opportunità con le migliori realtà imprenditoriali della regione. Il 12 aprile del 2012 nasceva Elite, quindi dieci anni fa, con questo spirito di avvicinare quella che è la finanza che tipicamente sta in una zona milanocentrica alle realtà, le PMI italiane che sono tessuto industriale. Evidentemente sono molto in Italia ma sono anche molto in Umbria, sono 28.000 alle piccole e medie aziende che ci sono all'interno di questi confini, solo 24 sono entrate in questo percorso, quindi la nostra presidenza è proprio per stimolare gli imprenditori locali che sono eccellenze nel loro territorio, ma in tutto il mondo per i prodotti, anche a varcare quelli che sono le opportunità che la finanza può dare in tutte le sue forme. Elite non è solamente quotazione in borsa, ma Elite è preparazione strategica, di governance ed un mondo anche più sostenibile, quindi avere questi messaggi, portarli anche localmente, quello che ci spinge oggi a essere qui presenti, a testimoniare e anche dare una forma di condivisione network. L'evento di networking si è svolto a Perugia nella splendida cornice della posta dei Donini e ha visto la partecipazione dei vertici di alcune tra le principali aziende multinazionali Umbre attenti alle opportunità che Elite può riservare loro. Entrata a far parte di Elite nel 2021, Connesi ha portato la propria positiva esperienza. Connesi è una società che è cresciuta moltissimo, diciamo dal 2012 in poi, grazie alla sua credibilità, al suo rating con gli istituti bancari che ci hanno consentito di ottenere gli investimenti per tutto quello che abbiamo fatto. Elite ci dà una serie di interventi formativi, di workshop, ci mette in contatto con tutta la consulenza che può servire a un'azienda come noi per crescere e presentarsi nel modo giusto, con i giusti criteri, diciamo, al mondo della finanza alternativa. In Elite, fin dalla sua nascita, Santucci & Partners ha sottolineato le opportunità che in questo momento storico può rappresentare la partecipazione a questo network che aiuta le PMI a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Elite per noi, come Santucci & Partners, è sempre stata vista come, diciamo, uno strumento di crescita effettivamente per le imprese, ma non solo di crescita finanziaria quanto soprattutto di crescita manageriale, di crescita in termini di pianificazione, di capacità strategiche. È chiaro che in questo momento storico in cui effettivamente la variabilità sui mercati, soprattutto delle materie prime, ma anche dell'energia, come tutti sanno, è così pronunciata, uno strumento come Elite assume particolare importanza. Grazie a tutti.